Grazie, è da 60 anni che ringrazio il pubblico. Ci troviamo bene insieme, io e Silvia, anche se non siamo figli degli stessi genitori. Da qualche parte trovo una naturalezza e allo stesso tempo una specie di disagio di guardare negli occhi la propria madre e essere altro. Non ci si era prefissi di fare il teatro di Compagnia dei Figlioli, è capitato. Ci piaceva molto l'idea, il concetto di fare il teatro all'antica italiana. Se si potesse, se sapesse dove poterlo fare io girerei ancora con i carrozzoni.